140 iscritti, tutto stand out per questo Day 2 Grand Slam of Poker Portorose. Facciamo un giro fra i tavoli, c'è una waitlist che stanno aspettando almeno 10 giocatori di entrare, dopo i primi due livelli non è uscito nessuno. Ricordo che oggi si andrà avanti a giocare 12 livelli, fino alle ore 4 circa. Siete quanta gente, faccio un giro fra i tavoli, c'è tutto esaurito, tutto esaurito qui a Portorose. Quindi praticamente tra ieri e oggi quasi 200 giocatori sono venuti in Slovenia per questa prima edizione del Grand Slam of Poker. Come vedete round 3, blinds 75-150, average ancora 25.000, che è lo stack di partenza, livelli da 40 minuti. Grazie. 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 Grazie.